i body ma è straordinario paul non è straordinario preferisco il rock'n'roll intendevo il flamenco cornamusa è stato fantastico ma un assoluto spreco di tempo ora prendiamo penny e andiamo a sta bene paul stop paul se posso stia lontano da me pibody indietro devo farmi manipolare si fidi di me paul ho l'abilitazione in chiropratica pibody mi sento benissimo mi sento alla grande pibody lei fa miracoli ciao 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 ciao